Questa meditazione è guidata da Edoardo Conte, fondatore del portale della fratellanza fraternity.it. Serve a porci in contatto con l'archetipo di ideale. Concentriamoci sul nostro cuore, che è l'apparato di sintonia che ci permette di collegarci all'anima. Entriamo nel cuore e cavalchiamo quell'onda che ci porta nella profondità dell'essere, in contatto con l'archetipo di ideale. Vediamo l'archetipo di ideale che si esprime, si manifesta attraverso una spirale, una spirale la cui spinta, che potremmo anche definire come spinta evolutiva, ci conduce verso il centro di quella spirale. Il punto focale. Infatti, la forza dell'ideale esprime il raggiungimento del punto centrale dalla periferia. Meta che solo la spinta idealistica consente di acquisire. infatti, l'ideale è il carburante della volontà. Senza un modello espresso dall'ideale, la volontà non può imprimere l'adeguata direzione. Il significato superiore di ideale è sintetizzato quindi nel perseguire per realizzare. Continuando questo viaggio attraverso l'onda del cuore, che si propaga sempre più nella profondità del nostro essere, entriamo in contatto con la nota del degrado di frequenza dell'ideale, che si esplicita nella nota di sofferenza dell'abbandono, della resa e del tradimento che inducono alla sfiducia, alla depressione e allo sconforto. Per cui, la persona che è in balia di questa sofferenza si sente debole, apatica e attaccabile senza più difesa. Per contro, la carica eccessiva di questa forza degradata sviluppa il fanatismo e la faziosità, liberando aggressività e violenza. Ma nel degrado dell'archetipo di ideale non v'è solo l'abbandono. Vi è pure uno dei più efferati vizi capitali, la lussuria. Anche questo degrado dell'ideale ha una sua funzione. Serve a sperimentare l'attrazione e la seduzione del corpo e, in senso lato, l'attrazione polare delle coppie di opposti. Portiamo la luce dell'anima su questi degradi, su questi abbassamenti in frequenza dell'abbandono e della lussuria, affinché la forza della luce animica elevi la loro vibrazione e la riporti alla frequenza originale dell'archetipo di ideale. E' la qualità che sgorga dal cuore ed eleva la corruzione e il degrado dell'archetipo l'ideale, nell'abbandono, nella lussuria e in tutte quelle contrapposizioni degli opposti, è rappresentata dalla virtù della fortezza. La fortezza, invincibile, che rafforza l'ideale dell'anima rendendolo stabile nella persona. Essa trasmuta la lussuria, poiché applica la forza idealistica per non indurre in tentazione e riconoscere la sacralità del corpo come tempio e dimora dello spirito. La fortezza, che ci conduce sulla via della saggezza, sgombri dalla paura, purificati da quella forza, che è la forza dello spirito. Ed ora riportiamo l'attenzione, ognuno coi propri tempi, alla coscienza di veglia.